Quest'anno il Natale si collega al percorso arabo-normanno, si collega a quel riconoscimento dell'UNESCO e vede insieme Palermo, Morreale e Cefalù. Quest'anno per la prima volta, speriamo che possa farsi così anche negli anni futuri, si mette insieme il ricordo storico-artistico del mondo arabo-normanno con l'attualità. Insieme una dimensione di fede, una dimensione di cultura, un modo per augurarsi come sempre quest'anno in maniera anche innovativa un buon Natale.